3, 2, 1 Eccola Papi, papi, papi Papi, papà, 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 che c'è? Non vomitare fuori dal bascone, papi Papi, non vomitare Papi, sono le mie Papà, papà Mi sentiero Ciao a tutti ragazzi Io sono Aurora e tu sei Ludovica Lui è Leo E con noi c'è anche Maya Oggi ragazzi è il 31 dicembre E quindi che cos'è? È Capodanno E noi oggi andremo a mangiare in un bellissimo ristorante Poi andremo a ballare così Ok? Però adesso ci vediamo un attimo a preparare perché sembriamo Eh sì Oggi ci prepareremo insieme ai nostri unicornini Esatto, esatto, esatto Siete pronte? Maya è qui con noi Perché trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno insieme a noi Esatto Balleremo, canteremo, mangeremo e ci divertiremo un sacco Adesso ragazzi vi farò vedere il mio vestito che metterò oggi per Capodanno Vediamolo Ludo fammi vedere anche il tuo Ok E poi dobbiamo prestare qualcosa anche alla nostra Maya Che non ha niente con sé Quindi dovremo prestarle un bell'abito Allora ragazzi il mio outfit è questo Ve l'ho fatto pure vedere quando abbiamo preparato le valigie E comunque è questo qua molto sbrenucicoso ed elegante Ok, vallo ad indossare Vado subito Adesso lo faccio vedere io Oh che carina Perfetto Andatevi a vestire e poi prendete un bell'abito anche per Maya Su, veloce Vai Ludo, indossalo 3, 2, 1 Eccola Vediamo Come sei bella Sei pronta per festeggiare il Capodanno? Sì Vediamo Aurora dove sta Ragazze Maia tu prendi? A che state? Ci stiamo truccando Stavo dicendo Maya tu vuoi metterti questo? Dobbiamo prestare un abito a Maya Io sono io E intanto mettiti questo Dai Mettiti questo Io qua mi riesco di mettere la scala Dov'è la paletta nuova Auri? Che così la presti anche a Maya e ve la mettete? Paletta nuova? Sì ce la prendiamo subito Maya tu che ombretto vuoi metterti sugli occhi? Abbiamo rossa Dorato Quella dorato Dorato? Ok Auri presto Maia Questa è la mia paletta Paletta E guarda Tadà Che bella Questa paletta è molto bella Me l'ho portata a poco la cane E guarda qua Abbiamo un sacco di tonità Questi molti pelati Quale vuoi metterti Maya? Dai trucca anche Maya Ludo vuoi mettere anche tu un po' di ombretto? Ok Vieni 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 l'occhio Wow Devo dire Occhio molto bello Ok abbiamo quasi fatto Maya Eh però le ciglia anche no eh Eh? Non le colorare anche le ciglia Ma no ma scusa Ma no ma che fai? Dai chiudi chiudi Ragazze Dovremmo festeggiare Dovremmo festeggiare a mezzanotte No domani alle 5 Voglio dire Un secondino Eh dobbiamo prepararci bene Il trucco deve durare fino a seconda Scusami Mi metto il mascara adesso Ti ho fatto sbagliare? Nooo Dai dai presto Muovetevi Calmiate Ma siete proprio delle moscione siete Cos'è contro le moscione? Muovichi Ci devo preparare bene E le moscettoni siete proprio Poi nel pennellino Wow Giuda che bello Ti stai truccando? Allora Però stai zitta Io non le direi niente Va bene Wow che bello Luto Ma cosa stai combinando Con il trucco di Aurora? Però è brutale Stai truccando bene Eh ho capito eh Bene è un parolone Cos'è sul naso? Cos'è quella roba che hai sul naso? Guarda che se viene Aurora si arrabbia eh E il suo trucco nuovo Hola Ciao Cosa fate? Stiamo lavorando Ma che cos'hai fatto? In faccia nuda Ma hai messo Ma hai messo Ma hai messo Ma hai messo Hai messo Hai messo Hai messo Hai messo Hai utilizzato questa parete Hai sporcata Stai scherzando spero Parole 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 Guarda L'hai sporcato tutto Chi ti ha detto di prenderlo? Tu Tu non sei normale Me l'hai sporcato tutta Non sei normale Ok Non sei normale Calma Oddio Papi Papi che è? Papi Papi Papà Papà Papi Papà Che c'è? Papi 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 Papà 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 Non urlare Ragazzi Andate qui Asciuga la mano 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 Ludo Papà Papà Tieni Ma chi hai? Ma si può sapere che cos'hai? Papi Ui Ma che cos'hai? Non mi sento bene Aspettate Ma come lo giro? Scusami In che senso? Oh Leo Papà In che senso non ti senti bene? Non so Stavo Stavo in bagno Papà Ancora Papà 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 Sarà stato A pranzo Quella pizza lì A pranzo Non è piaciuta tanto Lo sapevo io Tu ho detto Io a prendere quella pizza Perché a te non piaceva Ti faccio non la prendi Ma sento bene Papi Ma non è che hai qualche virus? Non lo so Non è che hai preso qualcosa? Ragazze Non lo so Ragazze Spostatevi da vicino Ludo Vai di qua Papi Un po' d'aria Devi avere Un po' d'aria Non mi sposto Perché È nostro papà Non mi voglio Un po' d'aria Aspettate Usate un po' d'aria No Aspettatevi Ma io è ventanale Papi ma quindi Lo lasciate stare un attimo In pace Allora per cortesia Lo sto bene Per cortesia Un po' d'aria Mi sento bene Non vomitare fuori dal balcone Papi Papi non vomitare Papi sono Sono le No Mi accettino Il gestino Chiudi 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 la finestra Chiudi la finestra Vomita Vomita Mamma mia Ci hanno proprio rovinato Un capodanno Adesso come facciamo Ragazze Quindi adesso Sapete questo Sapete che significa Questo ragazze Niente capodanno Che siamo bloccate qui Papi ma tu No ma aspetta Può darsi che mi riprendo Mamma Un attimo Papà In che senso Niente ristorante Non la discoteca Nulla Allì Allora Tu stai scherzando Allora Ragazze So io Cosa bisogna fare Papi Sì mamma Papi come ti senti No mamma Senti io Qua il capodanno Qua rinchiuso Dentro l'albergo Non ci voglio stare Mamma È capodanno Mamma È capodanno Mancano poche ore A 2023 Io qua Come poche ore Dobbiamo andare a cena Come andiamo a cena In queste condizioni Allora se dobbiamo andare alle 8 a cena Ok Sono le 7 e mezza Dobbiamo adesso andare Io Ludovica e Maia Siamo pronte Ma anche solo tu E anche mamma è pronta Ma anche solo tu Perché l'altro dobbiamo essere là Se l'altro sia alle 8 Non siamo là Vuol dire che tutto è saltato Perché là non si può arrivare L'8 e mezza Perché dopo non ti fanno entrare Perché non ce la disco Eh sì È un po' risultato molto particolare Quindi O ti prendi qualcosa O vado a chiamare giù Il cameriere Qualcuno Ti porto una camomilla Portiamo in una camomilla Eh andate giù A prendermi una camomilla Perché può essere che mi passa un po' Da Ragazze Ma che camomilla Ci vuole un tè Un tè al limone Mamma Papà Papà Non ci ascolta mai Io ti ho detto Non mangiare quella pizza Perché tu prendi sempre Aspetta aspetta Non sto bene Non vado in bagno Non vado in bagno Papi Ma non è che hai anche di senteria Papi Papi Non lo lasciate da solo Non lo lasciate da solo Papà Papà Mamma 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 Che cos'hai Basta Mamma Mamma Ti ho detto di staccare Perché lascia le mani Mamma Mamma Fredi Lasciuta la mano 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 Mamma Ti ho detto di staccare Basta Stacca Ragazze Mi sa che partiremo Tutta la nostra Ma chi se ne frega Del capodanno Ma L'informato È tutto Ma ti senti Mamma Puoi spegnere Statele camera Grazie Mi dispiace soltanto Di non festeggiare Mi dispiace Però a me Volta più te Che il capodanno Ma chi se ne frega Di questo capodanno L'importante È che papà Sta bene Appunto Io sono solamente triste Perché è stato tutto Ma a me Me ne può fre- Ma no Chi stiamo facendo Ma vuoi un te papi? Sì Se c'è un te Andiamo a prenderlo Papà chiamo 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 No no Scendete giù Andiamo a prenderlo Io e Aurora Tutto e tre Ma chiamo E lo porta qua Io chiamo Non mi interessa nulla Ok Io chiamo E se non rispondo Non vado a prenderlo Il codice Uno Uno Due Papi non mi svenire Papi Ma non è che hai pure la febbre Mi sento un po' accaldato Ragazzi ma Ma ce l'abbiamo un termometro Ludo Ludo ce l'abbiamo il termometro Pronto? Auri ti hanno risposto Pronto? Non lo so Io guardo Non hanno risposto Siamo stati sempre bene Il 31 mi viene Non fa niente papi L'importante Che ti riprendi un po' Dai Noi staremo qui con te Finché non ti riprenderai No papi Non ci frega niente Del capodanno Ma che com'è? Ludo No guarda Lasciamo stare Perché io sono più arrabbiata È una lunga storia È una lunga storia Papi A noi del capodanno Non interessa niente L'importante Che tu Stia bene Esatto A me del capodanno A me del capodanno Mi interessa Proprio Dai Lui Ma 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 A te conviene No ragazze Chiamate Zia Giussi Fate venire a prendere Maya Perché almeno Maya Tu vai a festeggiare il capodanno Non è che puoi stare qui Rinchiusa nella stanza Con noi Io voglio stare con voi Voglio vedere se Zia sta bene Puoi stare con noi Sì Oh che carina No Da te papà Non ti spaventare Non ho niente Sono un po' di bocca Ragazza allora Molto ansiosa Io mi spavento molto Di queste cose Dai non ci arriviamo Magari col te Ti passa tutto Papi Andiamo a prendere il te Te la senti di stare da solo Sì sì Sicuro No 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 papà Tu da solo No no ma è passato Il vomito Adesso mi sono Mettiamo il secchio qui Ok Papi qui c'è il secchio Qui c'è l'asciugamano C'è anche lei C'è anche lei Mamma Mamma Papi mettiti questo Prima di scendere Mettiamogli questo a papà Così Stato all'accia A me mi affoghi qua Ho capito E però Ok vabbè No dai Te lo lascio con te Papi stai comodo Vuoi Vuoi una coperta Mettiti sotto le coperte No no sto bene così Grazie Vabbè Andiamo andiamo ragazze Dai ragazze No Ludovica ferma Ma tu non puoi scendere così Lasciala stare Non fa niente C'è papà che non sta bene Pensi a Ludovica Che sta tutta sport Aspettate Aspettatemi Chi deve muovere Papà non ti sento Ragazze Non dovete correre Venite qua Non fate conoscere Ti muovi E spegni E spegni mamma Allora Ci sto dicendo Ragazzi Spengi questa telecamera Scusate Avete un tè a limone Per favore Sì Grazie Ma no questo tè ragazzi Un tè Abbiamo Papà Gennaro Che è ammalato Ha un virus Sta vomitando Ci servirebbe un tè caldo Ma secondo voi Quel tè è adatto Cioè ma Sì Perché un po' rinfresca Un po' Che rinfresca Che rinfresca Non c'è niente 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 Ludo Non c'è niente Ok perfetto E tu porto io Grazie mille Grazie Ok 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 No ho capito Dai dai Schiacciate Schiacciate giù Dai che papà Si sta vomitando ancora Come facciamo Certo Poi noi delle scienziate Tre di noi Per prendere un tè Non è che poteva andare Solo una persona Siamo proprio Dell'intelligentone Scusami Vai Maya Schiaccia E che piano è Primo Primo Mamma 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 io porrò l'ascensore Mamma io porrò l'ascensore Stai calmo Oddio Mito Capite che papà Non sente male Su Abiti i uomini Schiacciate Ragazzi Mamma Che ansia Sta scendendo Di nuovo Sta scendendo Ma tu Mi hai messo piano Uno Che piano Avete messo E' messo a zero Tu l'ho messo E' messo a zero Ragazzi Papà Papà Si sente male Schiacciate Ma qua Dove siamo Ragazzi Sta salendo Ma questo nome è il piano nostro Ascensore in salita No E' primo No mamma Che stiamo combinando Mamma che cosa stai combinando Ok ragazzi ufficiali Che vai Ci siamo bloccate E' un pericolo Mamma Si è un pericolo Lo sai questo Alla Ma un attimo E' un pericolo Sì E' un pericolo